Un saluto a tutti, lo rinnovo, non voglio dire tanto di più altrimenti vi sottrarei il tempo per questa grande e meravigliosa agape fraterna. Rinnovo l'invito per l'anno 21, una volta chiuso qui e preso il digestivo, ci rivediamo al prossimo pranzo dell'anno 21. Buon ritorno a casa e grazie di essere venuti qui a San Paese. In queste occasioni la cosa migliore è essere brevi, allora mi limito anche io a complimentarmi con tutta l'organizzazione di questa nuova iniziativa, a partire dalla famiglia Sanfina, a partire dal gruppo dei giovani di Sant'Antonino e dal volley, insieme all'amministrazione avete fatto un po' di straordinario anche quest'anno. Complimenti per questo e un ringraziamento a voi tutti perché quello che fate è assolutamente importante per mantenere viva una comunità e per mantenere vive delle tradizioni. Bellissima la festa del pagione, è bella anche l'idea di dare 900 euro alla matrice. C'è gente che sta molto peggio di noi e in questo momento è sotto le tende, non per mangiare ma per poter avere un petto sulla testa. Quindi veramente bravi loro e bravi all'amministrazione comunale che ho saputo un mese fa, mi sembra di ricordare, che ha stornato 2 milioni e mezzo di euro, 2 milioni e mezzo di euro alla gente dell'amattrice del muro. Veramente è una cosa importante che rende bella questa sagra del pagione di salute. Buona giornata a tutti.